Luca Mazzotti Revisore Luca Mazzotti Revisore Buonasera. Vi garantisco che era stirata stamattina, scusatemi. Questa sera mi piacerebbe portarvi in un viaggio abbastanza inconsueto. Un viaggio esattamente a metà strada tra l'arte e la scienza. Qualche cosa che si muove al di là dei confini del nostro pianeta Terra, che esplora i limiti delle nostre percezioni e che ha come protagonisti il satellite naturale, cioè la Luna, e delle opere talmente piccole da essere invisibili e di conseguenza opere che portano al limite del concetto stesso di arte visiva. Immagino, cominciamo dal basso, dalla Terra, che ciascuno di voi sia stato almeno una volta nella vita a visitare un museo. Solitamente si tratta di spazi ampi, pieni di oggetti, che potete vedere con i vostri occhi, tipicamente quadri, statue, installazioni di ogni genere. Esistono musei di ogni qualità, militari, musei di agricoltura, musei di scienza, musei di archeologia, e chi più ne ha, chi ne metta. E sono distribuiti quasi in ogni dove. A qualcuno è venuto in mente di aprire un museo in un luogo dove non esiste. È un luogo che è stato esplorato quasi 50 anni fa da numerosi equipaggi di una sola nazione, e si chiama Luna. Quali sono, diciamo così, i contorni di questa idea? Tutto parte da un consorzio statunitense, per la precisione della Carolina del Sud. Questo consorzio, che si chiama Astrobotics, decide di aderire a un progetto internazionale, che è un premio sostanzialmente, iniziato da Google, il gigante di Mountain View. Questa competizione assegna come primo premio 30 milioni di dollari al primo consorzio privato che posizionerà un oggetto sulla Luna, un robot, capace di compiere un percorso di almeno 500 metri e di mandare a terra una trasmissione di video in alta risoluzione. E l'obiettivo di questa competizione è quello di sviluppare una nuova imprenditoria privata per poter aprire un'era di sviluppo e di sfruttamento delle risorse lunari. E sostanzialmente le caratteristiche di un museo che possa essere trasportato da un oggetto come un'astronave e collocato sulla Luna, quali devono essere? Beh, sicuramente quantomeno deve essere leggero, perché le stime dei costi per depositare un chilo di materia sulla Luna parlano di 1,2 milioni di dollari, quindi sono cifre astronomiche. Qua, da questi schizzi, vedete che il museo assomiglia un po' a una lattina, quindi ha un volume inferiore a una lattina di bibita da 300 ml ed è pensato e realizzato con materiali che dovrebbero essere in grado di resistere per migliaia di anni nelle condizioni dell'habitat lunare. Da questo rendering 3D, che è uno spaccato del museo che si chiama Moonark, vedete che è una struttura molto complessa. Senza scendere troppo nei dettagli, vi basti sapere che ci sono all'interno numerose opere d'arte, miniaturizzate, e un campionario di materiali e oggetti che provengono dalla Terra e che simbolicamente rappresentano la società contemporanea. E le nano opere che noi abbiamo realizzato sono protette da due di queste dieci viti che vedete collocate sui dischi superiori e inferiori del cilindro centrale. Questo invece è il lander, cioè l'oggetto che deposita il Moonark sulla Luna, è sostanzialmente simile al Lunar Excursion Module, che in italiano chiamiamo LEM, che si depositò sulla Luna con le missioni del 69 e poi in avanti, Apollo, è fatto di alluminio, è un oggetto che ha 4 metri e mezzo di diametro, è capace di depositare sul suolo lunare 270 kg di materia utile, quindi esperimenti scientifici, oggetti, e pensate che brucia ben 1700 kg di propellente per rallentare la caduta e fare un soft landing, come si dice. Questo invece è il robottino, cioè il rover, quindi è un oggetto che ha la capacità di muoversi alla velocità di 18 cm al secondo massima, è alimentato da dei pannelli fotovoltaici che generano una potenza elettrica massima di 100 W, e ha poi una stereocamera per prendere, diciamo, delle immagini stereoscopiche in alta risoluzione. Ma come è nata l'idea della nanoarte? Questa è nata nel 2005. A quei tempi un artista torinese, che si chiama Alessandro Scali, ci venne a trovare al Dipartimento di Fisica del Politecnico di Torino e ci mostrò degli schizzi su un taccuino e ci chiese potete realizzare queste opere in maniera tale che non siano visibili all'occhio umano? E lì per lì ci sembra una sfida assurda. Ovviamente la risposta era sì, si può fare, noi iniziamo questo percorso insieme a lui e realizziamo diverse opere. E da allora siamo sempre andati braccio a braccio ad affrontare diverse sfide e abbiamo anche raccolto questa per poter realizzare delle opere da collocare sulla Luna. Le specifiche che ci sono state fornite erano molto stringenti, avevamo necessità di farle su supporti grandi massimo un millimetro per uno. e qui vedete il supporto di silicio che ha queste dimensioni. Sopra quel pezzo di silicio sono state fatte delle incisioni nanometriche che sono proprio le opere d'arte. E qua vedete la mano dell'artista Alessandro Scali che regge un portacampioni con dentro dei minuscoli pezzi di silicio che sono quelli su cui abbiamo fatto i campioni. E questa è la bozza della prima opera, quindi il disegno che fa l'artista, che si chiama Camun, che è un gioco di parole Camon e Moon. Ed è un'impronta che simboleggia, diciamo, l'accesso dell'arte terrestre umana sulla Luna e che richiama anche, ovviamente, le famosissime orme degli astronauti che vennero calcate sul suolo lunare dalle missioni Apollo. È ovviamente una bozza. La prima realizzazione che è stata fatta è questa, che è una litografia. Che cosa significa fare una litografia? Significa trasferire digitalmente una geometria su un supporto rigido, in questo caso il silicio, usando qualcosa tipo un martello e uno scalpello. Solo che la punta dello scalpello è veramente piccolissima, nel nostro caso 76 picometri, cioè stiamo parlando di 76 miliardesimi di millimetro. Ed è fatta non di acciaio, come uno scalpello, ma di ioni gallio, che sono il materiale che utilizziamo per scalare. Un'altra informazione interessante è data da questa barra bianca qua, che è l'indicazione della dimensione dell'immagine. Questa barra è un micron, quindi un millesimo di millimetro. Questo significa che l'orma che abbiamo fatto è micrometrica, non nanometrica, quindi bisogna rimpicciolirla. Un'altra considerazione interessante è che cosa stiamo vedendo in realtà? Questo si rilaccia all'intervento di questa mattina dell'altro Alessandro. Questa scala di grigi, di chiaroscuri, che noi vediamo, non ha niente a che fare con ciò che vediamo con la luce, con i nostri occhi, perché questa è un'immagine fatta con un microscopio elettronico, e noi vediamo le proprietà della materia, datici dagli elettroni secondari, così si chiamano, che sono emessi in risposta a un pennello elettronico, cioè un fascio di elettroni primari, che va a scandagliare la superficie. Dovevamo farla più piccola, e così l'abbiamo fatta. Se guardate la scala dimensionale, questa è adesso 100 nanometri, e questo che è scuro è un solco, voi vedete, questo solco è meno di 50 nanometri di larghezza, il che significa poche decine di atomi messi uno in fila all'altro. È veramente piccolo. Però, se avete notato, l'opera è molto più semplificata di quella che avete visto prima. Perché? E qua ci scontriamo con le stranezze del mondo quantistico, cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che sostanzialmente se io voglio controllare la forza che esercito col martello sullo scalpello con una precisione alta, piccolo inciso, perché se esercito una forza troppo alta spacco il silicio, se esercito una forza troppo bassa non lo scalfisco e quindi non faccio nessuna incisione, per cui ho bisogno di controllare la forza. Perdo il controllo sulla posizione della punta dello scalpello, quindi non so più dove sto scavando e ottengo un'immagine che è un po' sfocata. Allora devo semplificare l'immagine perché altrimenti non ho più la possibilità di renderla nitida e quindi leggibile, visibile, ovviamente non con l'occhio ma con il microscopio elettronico. Questa è la seconda opera che è stata realizzata, di nuovo la bozza dell'artista e fa parte di una serie che l'artista ha chiamato socialitico, cioè ha coniato questo neologismo per descrivere la società contemporanea che è caratterizzata da un elevatissimo contenuto di tecnologia ma da una regressione a livello sociale dei rapporti. Noi lo abbiamo fatto poi come coppia micrometrica mantenendo la stessa geometria. Il materiale con cui è stato fatto il silicio, ma perché il silicio? Perché è fondamentalmente il materiale ubiquo, più utilizzato, più economico, più conosciuto per tutto quello che riguarda i dispositivi elettronici, gli smartphone, i computer, qualsiasi cosa abbia dell'elettronica dentro è basata sul silicio e noi lo conosciamo bene e usiamo questo preferibilmente. E qua vedete l'opera definitiva semplificata come prima rispetto alla precedente e nanometrica come dimensione ovviamente. Vedete la scala 200 nanometri. Questo è lo strumento molto complicato che è stato utilizzato per realizzare le opere che è un microscopio elettronico quindi un pennello elettronico che ci consente di vedere quello che facciamo e un fascio ionico che è lo scalpello che ci consente di scavare la superficie del silicio. Il tutto poi è circondato da una gabbia di Faraday ovvero da una specie di ragnatela di fili di rame che ci serve per pulire l'ambiente di lavoro dal rumore elettromagnetico che oramai nelle nostre città è ubiquo. In particolare questo strumento è stato collocato all'interno di un seminterrato di una palazzina storica insospettabile della crocetta di Torino dove ci sono i laboratori del Center for Sustainable Future Technologies dove lavoro dell'Istituto Italiano di Tecnologia quindi lo abbiamo fatto a Torino. Questa è la mia collega Casha lei è l'esperta di litografie è la persona che ha fatto le incisioni materialmente sul silicio e qua si vede mentre sta aprendo il portellone della nostra immaginaria navicella che poi è lo strumento con la quale abbiamo inciso il silicio. E qua sugli schermi vedete le due opere d'arte che sono state realizzate e l'impronta dell'artista Alessandro Scali quasi a volere calcare la luna simbolicamente e con questo concluso io ovviamente voglio ringraziare prima di tutto scusate Alessandro Scali che purtroppo non è stato presente qua non è potuto venire ma è lui diciamo l'ideatore dal punto di vista artistico del progetto Casha che è la persona che si è occupata di fare le incisioni Denis e Simone che sono colleghi che hanno tagliato il silicio il professor Piri che è stato il coordinatore del centro dove abbiamo lavorato il team TEDx per la sua eccellente organizzazione dell'evento e voi per l'attenzione grazie mille 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 grazie mille